Siamo qui con il professor Leonard Kleinrock, professore all'Università della California di Los Angeles che il 29 ottobre del 1969, quindi quasi 50 anni fa esatti, diede il via all'era di internet inviando il primo pacchetto di dati tra due server. È stato il professor Kleinrock a inaugurare OnLife, l'evento di Repubblica di due giorni dedicato all'innovazione, all'era digitale. Chiediamo al professor Kleinrock cosa si aspetta dal futuro, qual è l'evoluzione di internet e qual è il problema maggiore da risolvere perché internet diventi e resti un'opportunità e non una fonte di rischi e di problemi. È indubbio il fatto che i vantaggi generali di internet sono sicuramente superiori rispetti ai pericoli però ci sono dei pericoli che sono seri per quel che riguarda la criminalità organizzata e gli stati e dobbiamo organizzarci contro queste situazioni. Naturalmente gli strumenti ci sono, uno dei problemi della balcanizzazione delle reti e di creare dei muri e dei confini è che le informazioni vengono intrappolate. Di fatto esiste una tecnologia per criptare i dati, in quel caso potremmo essere in grado di utilizzarli al meglio e a fini positivi. Si tratta però di una tecnologia che non è ancora matura e dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che le reti si frammenti in un sistema balcanizzato che non comunica.